Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Villainous in questa versione che vedete qui davanti nella nostra lingua in italiano a cura di Ravensburger che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per la recensione e in un gioco che è veramente molto divertente e fortemente tematico, un gioco competitivo però quel tipo di competizione molto leggera che fa divertire, che fa sorridere per tutti gli amanti dei cattivi della Disney e del sabotaggio delle azioni per rovinare i piani del vostro avversario. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Villainous, come detto in edizione italiana a cura di Ravensburger, è un gioco dove voi dovrete andare a vestire i panni di uno dei, tra mille virgolette, cattivoni famosi della Disney, tipo Capitano Uncino, Jafar, Malefica e tanti altri in questa scatola base, che è il pacchetto principale, insomma il core game, il core box e dovrete andare a compiere il suo piano malefico laddove ogni personaggio ha un piano e un mazzo proprio. Quindi ciascun personaggio cattivo, ciascun malvagio della Disney avrà un suo mazzo con un suo progetto che dovrà portare a compimento. Scopo degli altri giocatori ovviamente è quello di andargli a mettere i bastoni fra le ruote per fermarlo. Vince il primo giocatore che arriva a compiere il proprio piano quindi il primo e unico vincitore perché vince uno soltanto è un gioco competitivo avrà vinto la partita, avrà completato il suo piano, magari gli altri non saranno riusciti a mettergli abbastanza i bastoni tra le ruote o a bloccarlo ed avrà vinto la partita. Quindi più che un gioco a punteggio, per quanto ovviamente c'è un tipo di valuta che poi vi dico di punti da utilizzare per attivare le abilità che vi dico nel corso della spiegazione però per vincere la partita il primo che arriva a compiere il proprio piano ci arriva anche il primo, ha vinto e ha finito la partita. Vi spiego un po' come funziona ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco lo vedete con malefica di sfondo, anche la colorazione è molto bella, vabbè sul verde classico il colore suo e il richiamo è veramente forte a tutte quante le opere della Disney e anche il font scelto rimanda un po' alla classica fiaba, un po' malvagia, qualcosa del genere crea un po' di mistero, veramente affascinante come confezione e poi anche bella grande. Apriamo, regolamento che è una versione veramente semplicissima e poi il classico regolamento un po' largo, a striscetta, come vi dico sempre che mi piace da morire perché ci sono le rappresentazioni quindi regola e rappresentazione più vari esempi proprio per facilitarci al massimo livello la lettura. Poi qua dentro c'è un sacchettino dove ci sono tutti i token che sono i punti che possiamo spendere e i lucchetti che dovete mettere sulla vostra plancia per le zone che sono momentaneamente bloccate. Rappresenta Jafar, la corona che è veramente molto carina questa qui che rappresenta la corona del principe Giovanni la regina di cuori capitano uncino Ursula della sirenetta e poi qua giù abbiamo la mia preferita, troppo bellina, poi mi piace anche il verde, malefica. Le planci, come vedete qua giù, ciascun eroe ha la sua plancia dove mettere le proprie carte e soprattutto ha le varie zone che compongono gli angoli del suo regno dove può fare tutte quante le azioni mettendoci carte, eroe e cose del genere scagnozzi, equipaggiamento e quant'altro e poi tutti i mazzi di carte che sono veramente tanti qua giù dentro anche perché ogni cattivo, ogni malvagio ha proprio il suo mazzo non c'è una miscolanza né niente ognuno ha il suo che sono carte fato e carte cattivo quindi il mazzo fatto e il mazzo cattivo e poi c'è questa parte qui che è in plastica che è il calderone dove dentro ci è andato a mettere il pool comune con tutti i punti che servono per spendere, per attivare abilità delle carte e cose del genere e le guide al cattivo con tutte le azioni che possono fare e come vedete qua giù dietro invece gli obiettivi gli obiettivi del cattivo vi faccio vedere un po' come funziona questo Villainous è un gioco alla portata di tutti quindi per grandi e per piccini ma la cosa bella è che ha una componente competitiva però sana, non... cioè alla fin fine è divertente andare a sabotare un altro giocatore o anche andare semplicemente come maniera di sabotaggio nel caso vi dico che un vostro avversario avesse Jafar andare a pescargli dal mazzo degli eroi del suo fato andargli a pescare Aladino e quindi mettergli Aladino contro che lo sapete Aladino combatteva contro Jafar per la principessa e cercare ovviamente di andarli a sabotare il piano quindi fermandogli in una zona in quella maniera il giocatore che muove Jafar dovrà trovare la maniera tramite carte alleato del suo mazzo di sconfiggere Aladino e andare avanti nel suo piano quindi è bellino è un tipo di competizione e di sabotaggio andare a minare qualcosa però sempre in maniera molto simpatica e un gioco della Disney non potrebbe fare altrimenti nel gioco avete la plancia la vostra plancia del vostro malvagio che poi fondamentalmente la plancia del vostro cattivo è il regno, è il suo regno quindi è un regno diviso in zone ogni casella è una zona del regno alcune caselle sono aperte mentre invece altre sono chiuse da un lucchetto quelle chiuse da un lucchetto voi per una carta fato o voi per qualcos'altro a livello di gioco non possono essere utilizzate fino a che quel lucchetto non viene rimosso regole del gioco molto facili vogliono che voi prendiate la pedina il meeple fondamentalmente che va a rappresentare il vostro cattivo e all'inizio del turno lo dovete muovere dalla zona all'altra del regno non adiacente lo potete muovere dove vi pare a voi e su queste zone ci sono tot azioni che potete andare a fare tipo pescare carte dal mazzo giocare una carta scartare carte perché non potete scartare carte a pescimento ma ci deve essere l'azione usare una carta oppure spostare un eroe o un equipaggiamento quindi quando voi andate a fare queste azioni qui sul tracciato quelle scritte le potete fare tutte quante a patto che il vostro avversario dal vostro mazzo bianco che è il mazzo fato non vi abbia giocato contro delle carte per andarvi a minare il vostro obiettivo principale la vostra missione il vostro obiettivo oscuro quindi nel caso come detto poc'anzi se lui ha preso Aladino voi siete già a fare e vi ha messo Aladino in una zona in alto vi ha bloccato con la carta di Aladino otto azioni quindi magari in quella zona voi non potete più fare quattro azioni ma ne potete fare due e se quelle azioni bloccate dalla carta coperte oscurate vi dovessero servire voi dovrete fare il possibile per sconfiggere Aladino magari mettendoci degli scagnozzi potenziandoli con degli oggetti equipaggiamenti incantesimi ed altro e quando avete sconfitto Aladino la zona sarà sbloccata e li potrete utilizzare tutte quanti appunto le quattro azioni che prima di cui due erano oscurate alcune carte richiedono un pagamento per un'attivazione o un mantenimento che sono dei punti e questi punti possono essere guadagnati allo stesso modo con una delle azioni ad esempio in azioni potete dirvi guadagni una monetina guadagni due monetine e sono quelle che poi dovete spendere per attivare gli eroi eroi che potete spostare da una zona adiacente a un'altra del vostro regno o anche semplicemente potete usare i vostri scagnozzi per combattere gli eroi che vi hanno girato contro quindi alla fine tutto un muoversi sulle caselle giuste fare le azioni giuste e ricordatevi che avete delle missioni voi avete una missione particolare che è quella del vostro personaggio è il vostro obiettivo oscuro del vostro malvagio quindi per vincere la partita dovete completare tale obiettivo e i giocatori dovranno fare il possibile per mettervi i bastoni tra le ruote voi dovete completare l'obiettivo loro vi devono usare carte dal vostro mazzo fatto per bloccarvi quindi il gioco è duplice in conclusione e qui davanti vi faccio vedere l'ultima espansione uscita che inserisce tre nuovi malvagi che sono Rattigan lo zio Scar e poi Izma che vedete qui davanti questa è l'ultima espansione uscita ma ce ne sono altre uscite precedentemente che poi praticamente ci trovate tutti i cattivoni della Disney allora la valutazione finale è che è un titolo molto interessante molto evocativo e alla portata di tutti ma soprattutto e sono convinto che farà divertire tutti quanti perché non è da dire è un po' come My Sam Mystics non è perché ci sono i topini o magari fiabe di stoffa che può sembrare un gioco magari più indirizzato verso un pubblico piccolo comunque giovane questo vi assicuro è un gioco per tutti e poi divertente le miniature che ci sono dentro sono veramente belline vanno a rappresentare qualcosa che ci richiama il personaggio cattivo il malvagio che vanno a rappresentare sul campo perché ad esempio che mi fa ridere il principe Giovanni ha la corona vi ricordate la corona quella troppo grande che portava sempre in testa mentre invece Malefica ha la sua classica figura snella e slanciata col cappuccio con le corne lati quindi è fatto veramente bene sono molto evocative e poi un gioco fondamentalmente di piazzamento nel punto giusto ma anche un pochino di deck building il mazzo è sempre quello non è che ve lo potete fare costruirvi un mazzo no però le carte che avete le dovete usare anche giustamente nel modo corretto all'interno della partita perché una carta può andare a darvi un beneficio da una parte però allo stesso tempo forse sarebbe stato meglio spendere i punti per giocare una carta fatta contro il vostro avversario quindi è veramente interessante è un gioco dove c'è una competizione ma come detto sana non è assolutamente un gioco da nervosizio o cose del genere anzi ci vengono fuori anche delle belle risate e ti diverti a vedere un pochino come vai a sabotare i piani del tuo avversario ed è un gioco assolutamente alla portata di tutti io ringrazio la Ravensburger per avermi fornito la copia del gioco più l'espansione di cui ovviamente farò un breve video a parte anche per far vedere il contenuto quello che c'è dentro grazie di cuore è sempre un onore di su mano collaborare con voi se lo volete ordinare gioco più tutte le espansioni più ultime espansioni appena uscito nel primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla giocolibreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato vi ricordo di usare sempre come vedete sulla nota il codice discount Corridan 7 scritto tutto maiuscolo per avere uno sconto del 7% se il gioco se i giochi non li trovate in lista oppure li trovate in lista ma c'è scritto terminato voi comunque scrivete al supporto a Corrado dal proprietario della giocolibreria Semola e ditegli ho visto che il gioco non ce l'hai oppure ce l'hai mai finito arrivo dal canale di Corridan si potrebbe avere in quel caso e anche in quel caso usate sempre il codice sconto Corridan 7 lui farà il possibile per ordinarvelo spedizione in 48 ore in tutta Europa e soprattutto con una spesa superiore ai 79 euro quindi dagli 80 euro in poi non si pagano nemmeno le spese postali dateci un'occhiata perché è veramente molto interessante e poi comunque è un negozio che ha giochi da tavolo giochi di miniature e pitture wargame ha veramente di tutto io ringrazio ancora una volta Ravensburger e fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima